Prima vorrei ringraziare tutti i presenti questa sera che sono venuti a parlare della propria esperienza, sicuramente ho potuto apprendere molto e vi ringrazio per essere qui con me. Vedo molti parallelismi tra noi, ma soprattutto vedo che quando guardo le vostre battaglie mi sembra di vedere un riflesso delle nostre. Vedo che ciò che stiamo lontando è qualcosa di sacro, è qualcosa di incredibilmente importante e per avere questa nuova comprensione tra i risultati di un'altra, posso prendere questa informazione e portare questa volta e spiegare più attenzione alla mia propria comunità. Quindi ciò per cui stiamo lottando è qualcosa di sacro, è qualcosa di veramente importante e ciò che io posso portare a casa questa sera, portare a casa alle mie stesse comunità è qualcosa veramente di condivisibile. Per quanto riguarda appunto i diversi livelli di guerra di cui si parlava prima, di cui si accennava prima. Noi popoli indigeni stiamo lottando su diversi piani di guerra già da più di 500 anni. Ciò che sta accadendo anche all'interno delle scuole, quindi le guerre nelle scuole. Le guerre, quello che noi chiamiamo la guerra del cibo nei deserti, quindi il fatto di non riuscire a trovare un negozio che distribuisce o che venda cibo sano per miglia e miglia e miglia attraverso territori estesi, quindi per nutrirci solamente di cibo spazzatura. Quindi poi ci sono anche le guerre razziali dove le persone indigene e le persone afroamericane si trovano insieme a dover essere colpiti da un sistema, da una militarizzazione e anche dall'essere uccisi. Quindi anche la guerra all'interno delle prigioni, il fatto di utilizzare le prigioni come industrie per produrre una nuova forma di schiavitù. E queste sono battaglie a cui assistiamo già da tantissimo tempo e che continuiamo a vedere giorno dopo giorno, ma con l'arrivo di Trump questa situazione qui continua a peggiorare. E anche se credo che sia davvero orribile che Trump sia stato eletto, ritengo che qualcosa di buono possa venirne fuori. E quindi Donald Trump con il suo fascismo sta letteralmente raggiungendo ogni tipo di comunità con esclusione dei suoi bei uomini bianchi. E quindi tante comunità cominciano ora a percepire lo sconforto che hanno provato e percepito le comunità indigene per tantissimi anni. E molte persone mi chiedono ma le condizioni dei popoli indigeni sono peggiorate da quando Trump fu eletto? In realtà stiamo vivendo lo stesso livello di oppressione che abbiamo sempre vissuto nelle nostre comunità. Ma ora questo livello di oppressione, questo livello di sfruttamento sta raggiungendo così tante altre comunità, non soltanto all'interno degli Stati Uniti ma ovunque nel mondo. E quindi mi sembra di percepire che ci sia un livello di coscienza collettiva che sta emergendo da tutto quanto. I see a perfect opportunity for us to unite in solidarity and continue on with this fight. I think this means that our movements are going to be even more strengthened because there are so many people who are now feeling this level of discomfort. E quindi ritengo che questo sia il momento perfetto per unirci e per continuare a lottare. Perché lo sconforto generale della gente, questo sentimento di oppressione che sta dilagando su tutti i territori che si sta espandendo, ovviamente si sta creando anche un certo tipo di reazione. Quindi molte persone mi stanno chiedendo ma io cos'è che posso fare concretamente per restare vicino a voi nella vostra lotta contro il DAPL. E ovviamente non possiamo aspettarci che voi lasciate tutto quello che avete qui per venire a raggiungerci là e lottare con noi in prima linea. Quindi ciò di cui abbiamo bisogno è che le persone in Europa supportino la nostra campagna di boicottare. Quindi molti di noi entrano direttamente nelle banche coinvolte negli investimenti che sono atti a sostenere l'oleodotto. Quindi andiamo nelle banche, chiediamo, pretendiamo che le banche vengano chiuse, facciamo delle azioni dirette all'interno delle banche. E le nostre voci sono forti e chiare, stiamo scrivendo anche lettere agli amministratori e agli amministratori delegati di queste banche, facendo loro capire, facendo loro sentire ciò che proviamo anche noi. Quindi stiamo tentando di obbligare queste banche a prendere atto dei loro investimenti, di disinvestire in questo progetto dell'oleodotto e di mettere per iscritto che non investiranno più nei prodotti di carbon fossile. Queste banche stanno finanziando ciò che noi chiamiamo il dissacrare le nostre terre sacre, il misrispettare l'ambiente, il misrispettare anche le nostre persone. Quindi ci sono tante forme anche per fare un percorso di formazione, per riuscire a resistere, a reagire. E credo che è importante che quando vengo qui e dico alle persone come le persone dell'Europa possono aiutare con la nostra struttura, noi anche vogliamo sapere negli Stati Uniti quali passi possiamo fare, non solo in solidarietà, ma in azione, per aiutare le strutture che stanno passando qui. Quindi se voi volete aiutare noi negli Stati Uniti attraverso un certo tipo di attivismo, anche noi negli Stati Uniti abbiamo bisogno di sapere cosa possiamo fare dall'altra parte per aiutare voi nelle vostre battaglie. Perché ci sono molte persone che sono in gli Stati Uniti che vogliono aiutare con i globali problemi. I mean, la trattazione progetti che stanno passando qui, la fighta per Mother Earth che stanno passando qui stanno passando qui, è direttamente connectede a noi e i nostri costi, anche noi. Quindi ciò che avviene qui chiaramente influenza direttamente anche ciò che avviene di là. Quindi il fatto di essere uniti nel fare delle azioni all'unisono, insieme, è un aspetto essenziale. E anche il fatto di essere venuto qui in Europa adesso mi ha aiutato ad apprendere determinate cose, ma capire soprattutto quanto sia importante prendere azione o fare azione a livello internazionale. Questi dialoghi sono veramente importanti perché ci aiutano a capire quanto vasto sia il territorio, su cui poter lavorare. E mi sento profondamente onorato di essere stato qui, di essere stato qui in Europa, di essere stato qui questa sera per questo confronto e questo dialogo. Mini Wachoni, Water is Life. Grazie. 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 Grazie.